Permettetemi di stare seduto e di dirvi queste poche riflessioni con le quali ho cercato di vedere se vi è un possibile contributo dello spazio urbano e territoriale alla identità prima di tutto e poi anche allo sviluppo che è una derivata dell'identità. Però con una osservazione preliminare che l'immagine di un luogo o di una città da parte di chi vive lontano può essere diversa rispetto a quella percepita dai suoi abitanti. L'icona, l'immagine, insomma, ideale è ancora più differente se si tratta di un emigrato, emigrato, esiliato, non si sa mai quale dei due termini sia prevalente, che del sito conserva un ricordo originario, solitamente lontano e forse un po' sentimentale. Per questo esule Vittorio Veneto diventa un paesaggio dell'anima, cioè un borgo a meno, uno splendido insediamento storico inserito in un elegante contesto di pianure, colline e montagne, dove però la bellezza può nascondere contraddizioni e incompletezze. In altre parole, problemi accumulati e irrisolti. Anche di recente si è cercato di analizzare in un analogo convegno, ricordate, su un libro a cura di Anna Marson, il tema della passetto e del funzionamento della città mediante l'esame dei piani regolatori elaborati in successione temporale, qualche mese fa questo. Ma gli strumenti urbanistici, attenzione, sono spesso delle enunciazioni propagandistiche, delle ipotesi provocatorie, dei disegni astratti, insomma, delle fughe in avanti, che vengono elaborati per finalità politiche contingenti e non sempre sono seguiti da una attuazione concreta. Bisogna quindi andare in profondità e cercare nella storia, non bastano i piani regolatori. L'insediamento in fisico, infatti, e forse questo è proprio il caso vittoriese, lascio a voi poi rifletterci sopra, si sviluppa attraverso azioni materiali, cioè interventi, che sono stati realizzati anche al di fuori del piano regolatore, o addirittura in contrasto con la sua figurazione, i quali possono dar vita, aver dato vita, a una sorta di deroga, cioè una specie di antipiano. La pianificazione territoriale poi ha nell'area vittoriese una storia antica, molto più antica quella dei piani regolatori, così come li concepiamo noi. Dopo le esili e appena individuabili, però ancora individuabili, stazioni e piste paleovenete, c'è un libro di archeologia dell'Università di Padova molto interessante sui paleoveneti. Il primo tracciato di colonizzazione del territorio è costituito dalla centuriazione in epoca romana della pianura tra Ceneda e San Giacomo, sulla destra orografica del fiume Meschio. Si tratta di un forte reticolo, è una limitazio più che una centuriazio, ma insomma cambia poco, forte reticolo agrario leggibile nelle proiezioni, nei disegni cartografici. Assi coordinati appariono ancora oggi, la calde livera da un lato e la calde prade dall'altro. Un programma strategico realizzato empiricamente in fasi successive riguarda forse nell'alto medioevo l'incastellamento della valle del Meschio con le numerose rocche e torri distribuite in vista l'una dell'altra, facevano il solito fumetto per riconoscerci, per il controllo sui passaggi montani e sulla conca collinare, a partire dalla gola di Serravalle e dall'altura di San Martino. Un vero e proprio progetto urbanistico invece, e questo sì è un disegno che ovviamente non abbiamo ma che è stato fatto allora, un vero e proprio progetto urbanistico caratterizza invece la costruzione delle mura caminesi prima e veneziane poi del borgo superiore. Nasce così la città murata di Serravalle. Con la medesima cura i provveditori veneti realizzano l'esistemazione idraulica del fiume Meschio. Sono dei disegni bellissimi al riguardo, anche all'archivio di Stato di Venezia. presupposti per lo stabilirsi delle industrie che attingono acqua e energia dalle molte derivazioni, ma anche per i prati rigui, a monte verso Savassa e a valle verso Cappella Maggiore, Anzano, insomma i prati del Meschio. Le fortificazioni che risalgono i due contraforti montani di Sant'Antonio e di Sant'Augusta appaiono ancora oggi come una suggestiva scenografia frontale. Se vi mettete alla fine del Viale della Vittoria e cancellate per un momento quei condomini che nascondono Serravalle, vedete Sant'Antonio e Sant'Augusta. È una vera e propria scenografia con queste due mura che risalgono. Le amava molto Andrea Zanzotto, l'ho già ricordato qui la volta precedente. Quindi una scenografia frontale di munizione, di fortificazione del passaggio obbligato tra le rupi. In coerenza con il modello che si è andato consolidando, Ceneda invece, Ceneda-Vescovile agraria sud, Serravalle civile e industriale a nord, anche l'infrastruttura di comunicazione stradale in epoca austriaca. Ferroviaria sotto il Regno d'Italia, conferma sull'asse nord-sud la forma della città in fieri che sta crescendo. Un insediamento lineare, sostanzialmente bipolare, per il momento bipolare, perché poi diventerà tripolare, circondato da una corona di contrade satelliti. Sono tutti i vari borghi, Olarigo, Anzano, Costa, eccetera, attorno su questa conca. Questa verticalità nord-sud, prevalente per il costituirsi dell'aggregato urbano, non è suggerita solo dalla morfologia dei luoghi, cioè dal primato della condizione valliva, della valle, ma anche dal fatto che le infrastrutture viarie e ferroviarie ormai erano state impostate, questo è un passaggio importante, dalla strategia imperiale, napoleonica e austriaca, che sono coerenti tra di loro, sul bordo superiore della pianura, da est a ovest, cioè da Udine a Conegliano fino al passo della Priula sul Piave, lasciando all'itinerario ortogonale, Lapisino e Cadorino, quello nostro, il compito di valicare le Alpi per raggiungere il Danubio. Quindi si sposta completamente il sistema dei traffici, addirittura in epoca romana l'incrocio era opitergium, era oderzo, quindi era spostato molto a sud, si sposta sempre più verso nord e quindi esclude il sistema vittoriese. Dopo questo il primo progetto urbanistico nel significato attuale del termine, come sappiamo, è quello dell'ingegner Federico Gabelli, che disegna il nuovo centro della città nata dall'Unione di Ceneda e di Saravalle. Si tratta di una proposta essenzialmente economica e politica, fortemente politica però, coerente con la rivoluzione industriale in atto e con la volontà borghese di agganciare il polo produttivo locale allo sviluppo dell'economia manufatturiera del nord Italia, il triangolo famoso. Semplificando, il ruolo prevalente di Saravalle è nel settore meccanico tessile, quello di Ceneda in quello agricolo serico. ma molto semplificando. La funzione del terzo polo, che è il nuovo centro, è quella di fornire i servizi direzionali e terziari in genere. Vedete l'intuizione del momento? Ne accena anche Castro poi nel suo studio. Il terziario è stato il punto di partenza del servizio dato alla produzione, mentre ora abbiamo la produzione e magari ci dimentichiamo del terziario. Errore abbastanza che si paga caro, diciamo. Secondo me è almeno questo. In questo contesto vengono concepite tra 800 e 900 le infrastrutture che poi avranno seguito realizzativo anche dopo la prima guerra mondiale. il raccordo ferroviario da Conegliano, poi proseguito verso Ponte nelle Alpi, si chiamava Capo di Ponte all'epoca. La rettifica della strada d'Alemagna in parallelo al Meschio, lenta rettifica, lentissima rettifica, e il progetto idroelettrico Piave Cellina ha volto a incrementare la disponibilità energetica della zona. Vittorio è una concentrazione industriale primaria del Veneto, la principale della provincia. Adesso vediamo la svolta. La prima guerra mondiale aveva comportato dopo Caporetto il fermo delle attività produttive e la parziale distruzione degli impianti manifatturieri. Quindi una ripresa difficile, ma che aveva anche assegnato alla città un compito di rappresentanza degli esiti vittoriosi, cioè una virtuale funzione celebrativa nazionale. Di questa suggestione si diede carico la retorica fascista, ma non solo, abbiamo anche la nicche di Samotracia, anzi ne abbiamo due qui in città se non sbaglio, che attribuì a Vittorio Veneto forti contenuti ideologici, tendenti a concretarsi in grandiosi progetti urbanistici. Il piano regolatore di Giovanni De Min, di Giuseppe De Min, scusate, un disegno di notevole fascino compositivo e spaziale. Intende accordare, lo diceva anche l'Anna Marson, intende accordare la città una dimensione prospettica, una dignità figurativa e un'ampiezza insediativa assai maggiori della domanda. Mentre appare marginale, quindi è un'idea utopica diciamo quella di De Min, mentre appare marginale il ruolo produttivo, ecco uno dei limiti di questo piano, che invece era stato in precedenza quello che aveva determinato la fortuna della città. Il decumano centrale, che si chiamava Viale Cavallotti, adesso non so come si chiami, questo prima di tutto, ma la nuova sede diocesana che era stata pensata alla sua conclusione sotto la collina orientale, cioè della Madonna della Salute, le fontane, le piazze, i giardini, gli impianti sono capisaldi di una enfasi costruttiva degna della sede di una nuova provincia, dicevo che poi è andata a Pordenone nel dopoguerra e soprattutto degna del nome di città della vittoria. Sappiamo bene come l'esito del conflitto mondiale abbia fatto giustizia di questa proiezione celebrativa e di quanto arduo sia stato il recupero nel secondo dopoguerra, quando i grandi elettrodotti che la sede costruiva facilitavano la fornitura energetica a qualsiasi localizzazione e le providenze sulle aree depresse favorivano la dispersione produttiva nelle aree agricolo a scapito delle concentrazioni urbane. L'industria è andata fuori delle città, soprattutto fuori di Vittorio Veneto, almeno in parte. Ma l'equivoco urbanistico, forse intenzionale secondo me, fu generato dal fatto che il successivo PRG, piano regolatore, redatto negli anni 50 dal professor Duilio Torres, non solo mantenne l'ampiezza magniloquente della grande Vittorio Veneto, ideata dal Deming. Non solo confermò soprattutto l'occupazione delle aree a oriente del meschio, mai era stato valicato il meschio, se non con dei borghi, ma anche sconvolse l'assetto della città giardino che era stata proposta dal Gabelli con l'asse sul viale, allora si chiamava della Concordia. Oltre a questo Torres ignorò il territorio extraurbano il quale, privo di normativa, aveva solo pianificato la città, non il territorio urbano, che è molto grande il comune di Vittorio Veneto. Venne lasciato alla libera edificazione con la dispersione di capannoni e casette fra Ceneda e San Giacomo e altrove. Basta andare a San Paolo e si vede questa specie di marmellata che si distende sulla pianura. Ignorò anche, io avete capito che non amo molto questo piano, ignorò il Torres anche, il patrimonio monumentale fatto di edifici antichi e di ville liberty che venne manomesso e sostituito da palazzi e condomini, soprattutto lungo il viale della Vittoria. Chi ha la mia età ricorda il cavallino, l'albergo terme di un tempo e altri edifici, al bar alpino anche e così via. Gli strumenti urbanistici successivi, generali o particolari, che sono ma parecchi, hanno ribadito nel dettaglio tecnico la faticosa espansione urbana, con l'eccezione però del cosiddetto progetto Astengo. Per i centri antichi i manufatti di qualità che permise la conservazione del patrimonio storico-artistico residuo e cioè della tradizione locale. I principali progetti di infrastrutture e servizi furono realizzati in variante rispetto al PRG, con le conseguenze di disarticolazione del modello programmatico. Si vede il caso dell'autostrada, della circonvalazione, dei grandi servizi. L'autostrada, il primo progetto, doveva passare sotto costa, quindi non nella valle di San Lorenzo. Fu una intuizione particolarissima questa che salvò la città. Quindi non vorrei attadarmi su aspetti specifici, particolari, se non per rilevare che l'urbanistica aveva perduto quello che di solito si definisse la idea di città. Ed era solo una gestione tecnica ordinaria, spesso modesta, devo dire, funzionale all'attività edilizia, forse in qualche caso anche alla speculazione, ma priva del fascino e della suggestione, che per esempio, devo dirlo, ce l'aveva la città fascista. Mi preme però osservare che la comunità vittoriese, cioè il cosiddetto genius loci, sto cercando di vedere se è presente, rispose positivamente, secondo me, confermando il rispetto dell'ambiente collinare, straordinaria cosa, che dopo l'uso progressivo dei combustibili fossili, riacquistò il manto forestale che non aveva, restaurando per l'abitazione le vecchie case, come rimostra, secondo me, l'episodio singolare, molto bello anche, della via Roma, che è stata in gran parte recuperata, forse perché discosta dal grande traffico e appartata e paesaggisticamente molto piena di fascino. Curò i giardini, gli arredi, le pertinenze degli spazi privati. Mi avvio alla fine dicendovi le ultime cose che mi è parso di rilavare. Vi è stata quindi dunque nella collettività urbana una tensione verso la qualità, intesa come desiderio di vivere una, adesso la chiamano Smart City, un luogo privilegiato per stare insieme in modo solidale e partecipato. Credo che questo sogno concreto, lo chiamerei così, possa essere un messaggio dell'urbanistica futura, se i vittoriesi vorranno accoglierla, non come un fatto tecnico, ma come un fatto spirituale, interiore, l'urbanistica, perché l'urbanistica deve avere questo messaggio. In parallelo con l'azione economica e sociale in crescita e che si configura in questo secondo me importante libretto agile, l'ha detto Giovanni Napol prima, ma che contiene in sé, se si vuole fare la distillazione, tutta una serie di cose, di questioni e anche di proposte. Difficile però è stabilire una direzione, una priorità sulle politiche, queste politiche concrete, da avviare per conseguire un miglior assetto e una equilibrata evoluzione della città, capace di soddisfare le esigenze del presente, ma soprattutto di competere per quelle future. Ci aiuta certamente in modo interdisciplinare lo studio del gruppo Masette e dei suoi colleghi, saluto la mia collega Gribaudi, con cui ci troviamo ogni tanto a Venezia, ma è molto bello incontrarci qua, e dei suoi colleghi, di cui oggi discutiamo che ci evidenza la fragilità del tessuto demografico, drammatica questa, e gli scompensi di quello economico, ma insieme ci può indicare alcune possibili vie d'uscita. Mi sembra che in tale condizione di squilibrio, peraltro condivisa da altri sistemi urbani del contesto veneto, non è solo da noi, a Bassano è la stessa cosa, tanto per dire a Schio, anche per città simili alla nostra, si rivela opportuna un'attività che nel campo dello spazio territoriale sia rivolta insieme a, primo, incrementare, mediante un miglior assetto architettonico e funzionale, l'efficienza interna del polo comprensoriale locale, incrementarla. Secondo, favorire l'integrazione con i poli circostanti, Veneti e Friulani, guardate che il Friuli è qui attaccato, è un tiro di schioppo, mediante l'innovazione nell'infrastruttura e soprattutto l'implementazione dei servizi, intesi in senso lato, con tutti gli aspetti innovativi. Terzo, utilizzare, e questa è un'altra cosa a cui crederei, le ottimali condizioni climatiche. Io venendo su sono uscito dalla nebbia, forse anche la Cristina Gribaidi, successo questo, dalla nebbia e ho visto la meraviglia di queste montagne, di questa piccola Himalaia che è il Visentin, molto piccola, e le colline giorgionesche, belliniane, Cima da Coneliano non è nato molto distante da qua. Utilizzare le ottimali condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali dell'area e del suo contesto per l'insediamento privilegiato di residenza, turismo, cultura, benessere, sanità, anzianità, eccetera. Dal punto di vista urbanistico ciò si concreta quantitativamente nel arrestare l'ulteriore occupazione di aree esterne, perché se sono già utilizzate male quelle interne, a maggior ragione, anzi nel restaurare i margini e rammendare le periferie vittoriesi, nonché nel perseguire una maggiore densità edilizia, in modo discreto, non in modo continuo, progettandola, e una sostenuta attività di recupero delle volumetrie, anche ai fini della protezione dei valori estetici e paesaggistici, magari demolendo qualche condominio troppo alto o sgraziato. La cura della città in altri termini deve riguardare non solo le funzioni e le relazioni, cioè i servizi e le attrezzature, ma anche il suo aspetto, cioè il suo appeal, così lo chiamano gli inglesi. Il cospicuo restauro degli edifici monumentali, citavo via Roma, salvata dal traffico, a differenza della sottostante via Martiri della Libertà, mi pare si chiami così, soffocata dalle vibrazioni, dall'inquinamento, i camion hanno anche distrutto i poggioli, ho visto, cioè veramente massacrata, oltre a far scomparire gli affreschi antichi, indica per Seravale la strada giusta da seguire, quando sarà in funzione, speriamo presto, la galleria sotto il colle di Santa Augusta. Restituire a questo centro storico il volto e la funzione antica della città murata, sembra un obiettivo, una delle più belle del Veneto tra l'altro, sembra un obiettivo davvero primario, così come proseguire nell'opera di recupero delle vecchie fabbriche del meschio di tutto il suo paesaggio, il suo contesto, che era vivissimo un tempo e ora è in parte abbandonato. Un secondo obiettivo, a mio avviso, sembra essere costituito dal completamento dei servizi innovativi e delle infrastrutture di collegamento della zona industriale meridionale. sapete che è una delle grandi realtà produttive del Veneto, anche se un po' ignorata, che rappresenta anche con le sue, le chiamavo, le multinazionali tascabili che sono al suo interno, rappresenta il cuore economico del sistema vittoriese e non solo, perché fa sistema con altri e che deve essere posta in condizioni di integrarsi con il sistema produttivo e terziario circostante. Se uno deve fare una raccomandata, da lì deve andare a Conegliano o non so dove. Una terza finalità riguardante la manutenzione dell'arredo paesaggistico e ambientale, che costituisce la cartolina illustrata della città, cioè una risorsa fondamentale con le acque, boschi, alture, prospettive, elemento costitutivo del benessere e della salute. C'è anche un benessere visuale, che è un fatto climatico anche questo. Per gli abitanti e per quelli che scelgono, sceglieranno la città come luogo di residenza, di cultura, di svago, di turismo. Come dicono da tempo i sociologi, per esempio l'ha detto recentemente uno dei più famosi del mondo, l'autorevole Fukuyama, per rendere felici gli abitanti e attrarne di nuovi, la città deve essere bella ed amabile. Per esempio così la pensava Lorenzo il Magnifico per la sua Firenze. Gli interessavano i soldi anche i medici, però li usavano per fare la città più bella del mondo in quel momento, perché da questo appeal, da questa bellezza nasce la coesione e la gratificazione dei suoi figli. Deve richiamare nuove presenze col suo decoro, la sua vivibilità, perché questo genera ricambio e novità, la sua compattezza è anche l'aspetto sensibile dell'interna solidarietà, della sua energia potenziale. Tutto ciò è possibile poiché si avverte che i vittoriesi, mi metto tra questi, amano molto la loro città. Grazie. Grazie.